a palla e fra a palla e fra vuoi parlare? e cosa vuoi da palla e fra? potete parlare portarvi chi è che vuoi? il piccolo? il piccolo Dani il piccolo Dani, perché? cos'è che hai da regalargli? un giubbottino il tuo giubbotto preferito di pelle che adesso è piccolo da motociclista figo, vero? e di loro vogliamo dare al Dani che ne hai tu uno nuovo grande così siete due motociclisti vero? e poi? e venite che facciamo la merenda anche voi palla e fra? mi sa che vengono poi se alla fra gli dici che si fa merenda quella arriva a discorsa è un po' una mangiona ruba i pezzetti dalle torte però Kikko dici che ce la fa arrivare fino a qua che cosa fa sempre quello lì? si perde si perde sempre Kikko oh oh mi dà di giù beh ma per fortuna che c'eri tu Kikko ne combina di tutti i colori ne combina di tutti i colori sicuro? eh sì c'ha proprio la faccia da uno che ne combina di tutti i colori come i bobos è un bobos come i fratelli? eh sì sì mi sa che Isa è uno dei bobos è vero e la fra chi è allora? la bobezza la signora bobos è la bobos allora gli dici Kikko se mi porti la palla per giocare e fare merenda prometto che ti sto attenta e non ti perdi vedi cos'è? che ti porti la palla che ti giocca si puoi perdere ricordati che ti porti quel pesciolino è vero digli alla palla ricordati il gioco del pesciolino che l'altra volta te lo sei dimenticato Emma era era il ragazzo cattulo questo qua Emma non mi dice una giusta no non mi dice cattura giusta c'ha un chiuso purtroppo allora manda tanti baci dai saluta ciao dai Emma fai un invito fatto bene voglio fai un bell'invito fatto bene dili voglio che venite voglio che venite per fare davvero merenda con noi perché ti mancano si vero? si tanto? si e chi è che ti piace giocare tantissimo? chi è il tuo preferito? Kiko Kiko sei un po' innamorata? si lo so io che sei un po' innamorata ma sei tutta vergognosita guarda Emma non diciamolo alla palla perché sennò è gelosa ma secondo me anche Kiko è innamorato un po' di te però è un segreto non dirlo alla palla vero? ciao saluta ciao ciao